Ciao amici, ciao a tutti, oggi ci troviamo a Parma, siamo nel centro storico di questa città, vicino a Piazza Garibaldi in via della Repubblica 2 e mi trovo di fronte ad un negozio storico, è un negozio storico di cui ci parlerà la proprietaria, la signora Maria Luisa Pioli esatto e il negozio si chiama Color Viola, buongiorno, buongiorno, allora qual è la storia, perché questo negozio è storico? Perché la Violetta di Parma era il profumo, era il fiore preferito da Maria Luigia d'Austria che ha regnato a Parma, la moglie di Napoleone e aveva creato un profumo che Borsari nel 1860, che è l'azienda, che ha creato il profumo della Violetta di Parma e da allora questo è il negozio appunto del storico, come vede, proprio di quegli anni lì e noi vendiamo la Violetta di Parma, profumo, saponi, dolci, tutto inerente alla Violetta di Parma Fantastico, quindi un negozio tematico? Sì, proprio per i turisti che vengono a Parma e che vogliono fermarsi il nostro negozio Bene, e tutto è nato da questa figura Maria Luigia d'Austria Maria Luigia, moglie di Napoleone che ha regnato a Parma, insomma, e quindi è stata lei che ha creato questa tradizione che poi Borsari ha ripreso la ditta Borsari e ha creato appunto il profumo Benissimo, magari possiamo entrare e ci può mostrare alcuni articoli che vengono? Sì, sì Vediamo allora qualche prodotto Certo, noi abbiamo particolarmente dei profumi da collezione, cioè sono boccetti vintage, questo a forma di viola questo è il bouquet di Violetta, questo è il bouquet di Violetta, che è il primo flacone che ha fatto Borsari il mignon del bouquet di Violetta e poi tanti altri, tutti da collezione che poi facciamo riempire col profumo alla Violetta quindi partiamo da 8 euro in su abbiamo poi i saponi, i saponcini da 3 euro, 5 poi abbiamo, vede, queste confezioni molto carine con i boccetti vintage e la scatolina pure, vengono 15 poi abbiamo ecco i profumatori per gli armadi con sempre la Violetta e poi tutti i dolci le caramelle, le vere viole candite, che è una specialità di Parma queste sono caramelle con vero fiore di violetta si, vero fiore di viola, che è una caratteristica appunto di Parma, si chiamano viole candite se no le caramelle, le viole, le scatoline vintage con le caramelle, il tè e in inverno abbiamo anche i cioccolatini con sopra le viole candite, adesso fa troppo caldo e questo negozio è un piccolo museo perché vede qua in fondo abbiamo tutti i vari profumatori profumatori per dei primi del novecento là in fondo sono molto belli si chiamano vegliosi quelle là si attacca la luce e si mette un goccio di profumo e espandono il profumo vede quelli là nella vetrina è una collezione proprio dei primi del novecento quella poi abbiamo anche la fragranza maschile l'acqua classica di Borsari che è una fragranza un po' più maschile diciamo e poi tanti oggetti vintage per i regali eccetera quindi un negozio dedicato completamente alla viola e le sue varianze certo e in primavera vendiamo anche le piantine di viole fantastico quindi ricordatevi se venite a Parma ricordatevi di passare a color viola in via Repubblica 2 in via Repubblica 2 ciao a tutti grazie mille grazie 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 grazie